Musica Sabato 15 gennaio, buongiorno a tutti voi, sono le 7 del mattino, è il momento della rassegna stampa di vedere quali sono gli argomenti trattati principalmente. Ieri c'è stato l'ultimo saluto a David Sassoli, al Presidente del Parlamento Europeo, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. L'ultimo saluto gli è stato dato dalle più alte cariche istituzionali italiane ed anche europee. Subito dopo però alcuni dei leader politici che hanno preso parte alle esegue di Sassoli si sono ritrovati soprattutto quelli del centro-destra per un vertice importante che c'è stato nella residenza romana di Berlusconi sull'Appia, sempre qui a Roma, dove si è deciso e si è ufficializzato sostanzialmente la candidatura di Berlusconi per il Quirinale. Bisognerà poi in realtà aspettare alcuni giorni perché sostanzialmente gli hanno detto i suoi alleati, dice noi appoggiamo naturalmente la tua candidatura ma dobbiamo vedere nei prossimi giorni se abbiamo i numeri per poterla sostenere. Questi diciamo sono gli argomenti principali oltre naturalmente al fatto dei nuovi parametri che sono stati decisi anche per quanto riguarda il Covid, il Green Pass, il Super Green Pass. Andremo a vedere che cosa ha deciso la cabina di regia che si è riunita ieri e soprattutto andremo a vedere se c'è un cambio di colorazione di alcune regioni perché da lunedì la Valle d'Aosta diventa arancione, unica regione d'Italia, così come la Campania passa dal bianco al giallo. Questo in base al bollettino settimanale, al report settimanale che c'è dei contagi. Da rilevare purtroppo un aumento importante dei decessi, oltre 300. Allora andiamo a vedere che cosa troviamo sui giornali. Purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico proprio qualche istante prima di andare appunto in diretta, di entrare in onda e quindi dobbiamo tornare al vecchio uso della carta stampata. Insomma è un momento così per tornare alla marcorda. Vediamo, allora partiamo dalla stampa. Il titolo Berlusconi lancia alla sfida del Colle, Salvini e Meloni via libera la candidatura, Mora si contano i voti, no di Letta, Enrico Letta e Conte, sottolineo Enrico Letta perché c'è stato Gianni Letta invece che ieri è andato a Palazzo Chigi all'insaputa, sembra, di Berlusconi e questo ha creato anche qualche malumore proprio all'interno del centrodestra. Allora, tornando alla sommaria, no di Letta e Conte, irricevibile la candidatura di Berlusconi e poi sopra la scelta nel vertice di Villa Grande, Gianni Letta a Palazzo Chigi, sospetti di Forza Italia, dice per chi tratta. Vi segnalo anche, eccola qui a sinistra di spalla, c'è un'intervista al premio spagnolo Sanchez, l'occasione è stata, ahimè, quella dei funerali di David Sassoli, ha voluto prendere parte, proprio partecipare a queste esegue e nell'occasione poi Francesco Livo subito dopo lo ha intervistato. Il titolo La Spagna di Sanchez, pandemia, lavoro e diritti, adesso un patto con l'Italia. Questo è il titolo, la prima pagina della stampa. La prima pagina del Corriere della Sera, se riusciamo ecco qui a inquadrarla, il titolo d'apertura, Berlusconi alla prova dei voti, ancora una volta il vertice è quello appunto che si è tenuto ieri a Villa Grande, il centro-destra a Locandida, sciolga la riserva se ha i numeri, no da PD e Movimento 5 Stelle. Tajani, Salvini e Meloni scelgono il fondatore della coalizione, Conte, un nome irricevibile. E poi questa fotonotizia che ritrae appunto i familiari di David Sassoli, stanno per entrare nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, c'è la moglie di Sassoli e poi i due figli. Eccolo qui, il ricordo commosso di moglie e figli ai funerali di Stato. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. La prima pagina di Repubblica, prigionieri di Berlusconi, vertice del centro-destra, da Salvini e Meloni via libera la candidatura del Cavaliere, sei numeri sciolga la riserva, ma gli alleati temono che il patto vada in frantumi in caso di flop. Letta no a capi politici, Conte è un'opzione irricevibile. Vi segnalo anche questo bel reportage, le pagine 14 e 15 di Pietro del Reda, l'Afghanistan, fame e gelo flagellano l'Afghanistan dei talebani. Il messaggero, il titolo principale, bollette, ecco il piano dei draghi, prelievo sugli extra profitti delle imprese idroelettriche per aiutare famiglie e attività. Già la prossima settimana, 2 miliardi e mezzo in consiglio dei ministri, il Premier vuole evitare lo scostamento. La fotonotizia si riferisce sempre ai funerali di ieri di Sassoli, Sassoli e l'abbraccio di Roma. E poi accanto il titolo sulla Covid, cambia il metodo di contare i positivi, i medici però dicono che è un errore. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Succede davvero? Il centrodestra candida B al Quirinale, figura adatta, così lo definiscono Salvini e Meloni. Questo è appunto il titolo deciso dal Fatto Quotidiano. Un'altra prima pagina, la verità. Il mondo viene a patti con il Covid, solo l'Italia si fa schiacciare. Il CTS è pasticcia sui ricoveri dopo aver dormito su Omicron. Questo è il titolo della verità. Vediamo il titolo del domani. La minaccia sul Quirinale. Nella foto vedete Berlusconi e Gasparri. Il centrodestra benedice l'ossessione di Berlusconi. Il fronte unito incorone il candidato più indegno. La prossima settimana nuovo vertice per contare i voti. la chiusura di PD e Movimento 5 Stelle per il governo, perché appunto hanno detto di non una candidatura, quella di Berlusconi, considerata irricevibile. Andiamo sul foglio. Abbiamo l'analisi, l'editoriale del direttore Cerasa. Tutti i nemici di Draghi. Cosa rende duro il passaggio del Premier al Colle? Nemici visibili, leader in ballo oltre al guizzo del CAV. C'è una scelta da fare. Togliere poteri a Draghi o dare più poteri all'Italia? Un viaggio tra veti e voti. Questo il foglio. Il giornale, il centrodestra, sceglie Silvio. La coalizione unita propone la candidatura al Quirinale di Berlusconi. Figura adatta, sciolga la riserva. Accordo anche sul no al proporzionale. E allora, sono le 7 e 6 minuti. Diamo la linea alla regia. Ci vediamo tra qualche istante. Riprendiamo la lettura dei giornali cartacea. A tra poco. 7 e 11 minuti. Ben ritrovati. Allora, andiamo a leggere insieme la prima pagina di Libero. Vertice del centrodestra per il Colle. Silvio c'è. I voti forse, tra parentesi. Berlusconi si dà sette giorni per decidere se candidarsi al Quirinale. Sidi, Salvini e Meloni. E poi, altro che Palamara, decapitata la magistratura. Questo è il titolo scelto da Libero. Vediamo l'apertura, invece. La prima pagina di Avvenire. Signore in giallo. Lombardia e Sicilia non cambiano colore. Stiamo parlando, naturalmente, di pandemia. La campagna sì. Ora salgono i decessi. 360, la variante Omicron nell'80% dei casi. Il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, no alle regioni. Non cambi il resoconto. E poi, nella parte bassa, invece, vediamo il titolo sul vertice del centrodestra e sulle corsa per il Quirinale. Silvio si impone. Berlusconi riunisce gli alleati. E loro gli chiedono di candidarsi. No diletta. Enrico Letta è divisivo. Andiamo a vedere il tempo. Silvio c'è. Parte la caccia ai voti. La corsa al Quirinale. E poi la fotonotizia che ritrae il feretro di David Sassoli all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Lo vedete coperto dalla bandiera europea. Ho avuto una vita bella troppo breve. Queste sono le ultime parole di Sassoli che ci ha detto ieri la vedova proprio di David Sassoli. Il Sole 24 Ore. PNRR la sfida nel 2022 a investire 27 miliardi e mezzo per avviare 167 progetti. E poi di spalla a sinistra elettricità in Europa sale il rischio blackout. Bollette e i big sono nel mirino. Chiudiamo con la lettura della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Juve-Inter che duello per la gioia. Di bala braccio di ferro. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Allora andiamo a vedere gli approfondimenti. Partiamo dalla stampa. Perché? Perché come vi ho detto ieri c'è stato l'ultimo saluto a David Sassoli nella Basilica Romana di Santa Maria degli Angeli. Allora andiamo a vedere proprio alle pagine 8 e 9. Così per vedere anche le foto che ritraggono. Vedete dal capo dello Stato Mattarella, il Premier Draghi, i Presidenti di Camera e Senato. Ma c'è anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. E questo è il ferretro di Sassoli. Allora il titolo, David. L'ultimo abbraccio da Mattarella, Draghi a von der Leyen e Michel, il Presidente del Consiglio Europeo. Le istituzioni si inchinano a Sassoli. Se ne va un vero europeista. Lunedì il tributo a Strasburgo con Letta e il Presidente francese Macron. Anche nella pagina accanto, pagina 9, la stampa dedica ampio spazio proprio ai funerali. Fino in fondo ci è dato speranze. Il potere non ti ha mai cambiato. Ecco il ricordo proprio della moglie. Qui invece ci sono i figli. Nell'immagine il Presidente della Repubblica, Mattarella, appunto, che parla con i due figli. Mentre accanto la foto della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Rapidamente vi faccio vedere anche il Corriere della Sera. Naturalmente dà spazio alla commemorazione che c'è stata ieri, all'esegue proprio di David Sassoli nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Eccolo qui, a pagina 9, il saluto a Sassoli, un uomo di tutti, i funerali a Santa Maria degli Angeli. La baravolta nella bandiera blu dell'Unione. 300 ospiti con Draghi, Mattarella, Ursula von der Leyen. E qui appunto la vedova e i due figli, il figlio Giulio e la figlia Livia. Allora, questo era per ricordare appunto i funerali che ci sono stati ieri. E a questi funerali però ha partecipato tra le varie istituzioni, ma anche molta gente comune che ha voluto tributare proprio l'ultimo saluto a Sassoli. Era presente e ha voluto venire dalla Spagna anche il Premier spagnolo Sánchez. E allora la stampa lo ha intervistato. Vedete, ci sono due pagine dedicate proprio a questa intervista. A pagina 10 e a pagina 11. E allora andiamo a leggere insieme il titolo di questa intervista a Pedro Sánchez. Sì, l'ha fatta Francesco Rivo. Il Premier spagnolo dice, ci tenevo a dare l'ultimo saluto a Sassoli qui a Roma. E allora vediamo che cosa dice. Qual è stato il più grande merito di Sassoli? Dice, ha saputo essere all'altezza, ha contribuito affinché l'Europa desse una risposta alla crisi del Covid. diversa da quella che abbiamo visto per la crisi finanziaria del 2008. Scegliendo una politica socialdemocratica come quella sostenuta da David Sassoli, che vi ricordo era il Presidente del Parlamento Europeo. E ancora, a proposito dei rapporti tra Spagna e Italia, dice, su cosa si basa questa nuova alleanza? Italia e Spagna sono stati i primi paesi europei colpiti dal virus, con il negoziato sui fondi europei. Ci siamo resi conto della forza che abbiamo quando marciamo uniti. È stato un fatto storico per l'Europa. E ancora, come ha influito in Europa la buona relazione tra Italia e Spagna? I nostri paesi hanno un grande peso se sono uniti. Siamo la terza e la quarta economia dell'Unione Europea. Insieme rappresentiamo quasi il 25% della popolazione del prodotto interno della zona euro. Questo ha fatto sì che l'Europa guardasse più al Mediterraneo e ha favorito uno sguardo più nostro verso il modo di affrontare la crisi del Covid. E poi, nell'altra pagina, appunto, parla proprio di Covid. Per esempio, guardate in questa domanda. In Spagna, come si gestisce il problema dei non vaccinati? Arriverete all'obbligo. Lo sapete, l'obbligo vaccinale è una delle questioni aperte da giorni in molti paesi. La strategia spagnola, risponde Sanchez, si basa sulla vaccinazione di massa. I nostri cittadini hanno avuto un comportamento esemplare, vaccinandosi come se di fatto ci fosse un obbligo, l'obbligo di proteggersi e di proteggere gli altri. Oggi siamo oltre al 90% dei vaccinati. Questo, appunto, è il Premier Sanchez. E allora, subito dopo, però, le esequie. Alcuni leader politici del centro-destra si sono ritrovati, per un vertice che era stato programmato nella residenza romana di Berlusconi sull'Appia per fare il punto sulla candidatura per il Quirinare. Allora, andiamo a leggere dalla stampa. L'Ario Lombardo ricostruisce un po' il retroscena. Il titolo già ci fa capire qualcosa. Gianni Letta va a Palazzo Ichigi. L'ira del Cavaliere. Non sapevo nulla. E allora, sembra che Berlusconi non ne fosse stato messo a conoscenza che prima del vertice, appunto, ci sarebbe stato questo incontro tra il capo di gabinetto di Draghi e Gianni Letta. E allora, dice che vuol dire che è andato a Palazzo Ichigi questa mattina prima del vertice. Questo avrebbe detto Berlusconi ai suoi, subito dopo, che ha riunito subito dopo il vertice che c'è stato con gli alleati della ricostruzione. La ricostruzione, scrive Lombardo, è confermata da fonti a lui vicine. Il fondatore di Mediaset, assicurano, non ne sapeva nulla. Né tantomeno, aggiungono, è stato inviato a far visita a Draghi come emissario del presidente di Forza Italia, come qualcuno potrebbe immaginare. Ma soprattutto avrebbe taciuto dell'incontro per tutta la durata del summit con i leader di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Gianni Letta non avrebbe detto, pur partecipando a questo vertice, di aver incontrato a Palazzo Chigi il capo di gabinetto di Draghi. Appunto, il colloquio tra Funicello e Funicello, appunto, il capo di gabinetto di Draghi e Letta, durato un'ora, avviene su richiesta di quest'ultimo. Le bocche, però, alla domanda su cosa si siano detti, restano cucite. Verebbe naturale pensare che Letta abbia incontrato pure Draghi, ma lo staff del Premier si affretta a smentire. Dall'estanza attiva, quella dell'ex bianchiere, filtra che si è verosimilmente parlato anche di Quirinale. Questa è la ricostruzione che fa, appunto, Lombardo sulla stampa. A pagina 2 c'è un'intervista a Maurizio Lupi, che ha partecipato al vertice. Allora, vediamo direttamente da lui di capire che cosa si è detto. Dice, alla vigilia si diceva che oggi non ci sarebbe stata l'ufficializzazione di candidatura, invece gli alleati chiedono a Berlusconi di fare un passo avanti. Dice, come è andata? Gli alleati hanno detto, noi ci siamo, ma va fatta una verifica dei numeri. Poi decidi tu. Berlusconi stesso, che è una persona di grande sensibilità, ha detto, fatemi verificare se ci sono i voti. Ma il primo passo importante, fondamentale, è l'unità della coalizione di centrodersa dividersi sul Presidente della Repubblica. Un anno dalle elezioni metterebbe in crisi il significato stesso della coalizione. Questo è quanto ricostruisce la stampa. Andiamo sul Corriere della Sera. Andiamo sempre a vedere come viene trattato la questione appunto del Quirinale. Il retroscena che scrivono Marco Cremonesi e Paola Di Caro. Dice, il risultato l'ha incassato Silvio Berlusconi e non lo sottovaluta. Per la prima volta ha fatto mettere nero su bianco che l'eventuale sua candidatura non è il capriccio dell'uomo che ha inventato il centrodestra, ma è quello che gli chiedono i suoi alleati. E allora sotto c'è un'intervista a Brugnaro, il sindaco di Venezia, ma fa parte insieme a Maurizio Lupi della coalizione, anzi scusate, insieme a Toti della coalizione di Coraggio Italia. E allora dice, cerchiamo il massimo accordo, però proporre è un nostro diritto. a proposito della candidatura di Berlusconi, Coraggio Italia contro il proporzionale non firma. Sempre sul Corriere della Sera a pagina 2 c'è un'intervista al capogruppo del Parlamento del Partito Popolare Europeo Weber a proposito di Berlusconi, dice un nome divisivo, dice è stato un leader forte, ora lasciategli mostrare che è pronto a unire. E poi dice in maniera molto efficace, molto sintetica, dice lo sostengo. E allora sono le 7.21 minuti, io mi fermo qui con questa rassegna stampa, e ci scusiamo se è stata fatta in maniera cartacea come si faceva una volta, è un problema tecnico. E allora adesso subito la linea a Paolo Sottocorona con le presioni del tempo e il buongiorno. Sì, buongiorno. Questa è la situazione del tempo di oggi, che vede qualche nuvola in più salire sul Tirreno, sulle coste della Toscana, forse anche della Liguria. L'unica differenza rispetto a ieri è un cambiamento, sì e no, insomma sono giornate che diventano leggermente più grigie, se no il tempo continua a essere stabile, qualche debolissima pioggia sulle isole maggiori, forse in Calabria, insomma parliamo di cose isolatissime. Però questo è l'inizio, non di un cambiamento, ma di una specie di altra strada che il tempo prende, perché nella giornata di domani queste nuvole si allargano un po', prendono con qualche debole pioggia Liguria e Toscana, qualche copertura del cielo sul resto del centro e del sud, molto meno al nord. Come dicevo non è un cambiamento del tempo, però certo un po' più di grigio c'è. Arriviamo alla giornata di lunedì, in cui vedete che al nord e sulla Toscana forse addirittura migliora, cioè ci sono meno nuvole, restano invece un po' più presenti queste nuvole al centro e al sud, sulle isole, con la possibilità di qualche debole pioggia. Ancora una volta, ripeto, non è mal tempo, ma è un tempo che diventa un po' grigio, un po' incerto, la quantità di piogge eventuali è bassissima, quindi forse pioviggini, insomma un tempo di quel genere lì. Vediamo le temperature minime di questa mattina. Come vedete non abbiamo, cioè qualcosa abbiamo recuperato, perché quel sotto zero così diffuso in pianura al nord sulle zone interne del centro è scomparso. Certo, sono temperature basse, ma siamo nel periodo più freddo dell'anno, ci entriamo oggi, anzi statisticamente, quindi è evidente che più di tanto non ci si può aspettare. Chiudiamo con lo stato dei mari, ha ancora in ulteriore attenuazione il moto onduso, soltanto sullo stretto di Sicilia, sullo Ionio, ha ancora molto mossi localmente agitato lo Ionio a largo, eventi settentrionali sono ancora abbastanza forti, gli altri bacini via via da molto mossi a mossi a poco mossi. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale. Da più tardi. Grazie. 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 Grazie.